Siamo davanti all'istituto Natta di Padova perché uno studente di questa scuola è stato ricoverato per tubercolosi, una malattia che sembrava scomparsa, ma tanto scomparsa non è. Il giovane è residente a Capon San Piero a Straniero, è in cura e le sue condizioni sono in miglioramento. Tutti i suoi compagni di classe, però un'intera quinta e relativi insegnanti, sono stati sottoposti in via precauzionale previa lettera dell'US16 ad un'indagine tubercolinica che verrà ripetuta tra circa due mesi. Seguiti dunque tutti i protocolli regionali e nazionali in materia, nessun allarmismo, tanto che lo studente colpito dalla TBC potrà tornare presto a scuola. Ma che cos'è la tubercolosi? Che tipo di rischio comporta per la popolazione? E perché è tornata in auge? Lo chiediamo al professore Renzo Zuin, direttore dell'istituto di pneumologia dell'azienda ospedaliera di Padova. La tubercolosi è una malattia che è determinata da un patogeno, cioè da un micobacterium tuberculosis e che colpisce i soggetti, colpisce sia soggetti giovani che anziani, e termina una patologia che è rilevante a carico del polmone con varie manifestazioni, che però può interessare molti organi, per esempio l'apparato scheletrico, l'apparato linfoghiandolare e altri. E il contagio come avviene? Il contagio avviene attraverso la trasmissione per le goccioline di fligge, cioè attraverso i colpi di tosse, il paziente bacillifero. Ed è una patologia che non è certo scomparsa se pensiamo che ogni anno ci sono 10 milioni di nuovi casi tubercolosi con 2 milioni e mezzo, 3 milioni di morti. Quindi ogni giorno nel mondo muoiono 5.000 persone, metà delle quali sono uomini. Spesso si parla di allarmismo rispetto agli extracomunitari, gli stranieri che arrivano e probabilmente si portano anche la tubercolosi. Il problema è vero, perché ci sono paesi in cui c'è un'alta, elevata incidenza di tubercolosi. Questi pazienti che vengono molto spesso sono affetti da patologie tubercolari, non riconosciute e molto spesso non trattati. Quindi indubbiamente sono pazienti bacilliferi e questi possono rappresentare fonte di contagio. Quindi vanno tenuti.